Si è parlato anche del centro sportivo del Chimera, domenica c'è stato un nuovo ride attivo andalici sulla struttura, lunedì partono i lavori, da qui riparte anche il futuro dell'Arezzo, investimenti e settore giovanile? Sì, una società di calcio non può vivere senza settore giovanile, non avrebbe possibilità di gestirsi solo con la prima squadra, riguardo al Chimera, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, quindi qualche ben pensante di domenica ha pensato che era forse giusto andare al Chimera, aprire le bombole del gas, provare a dar fuoco a uno spogliatoio o fare altri danni che ancora di più di quelli che ci sono, se sono soddisfatti di quello che hanno fatto, per loro, passando ad altro credo che il centro sportivo del Chimera, che da lunedì inizieremo i lavori e che mi preme sempre ringraziare l'amministrazione comunale che veramente in collaborazione con l'Arezzo ha fatto un lavoro straordinario per darci la possibilità di avere queste cose, metteremo in moto una serie di investimenti che ci porteranno, spero per il prima possibile ad avere in uso tutti i campi e tutte le strutture che sono al Chimera.